circuito italiano ic s beach sports l'obiettivo è creare un circuito italiano ic s di giochi da spiaggia con appuntamenti ogni fine settimana o 15 giorni in località turistiche italiane sulla spiaggia il circuito italiano ic s beach sport è un circuito basato sull'organizzazione di diverse manifestazioni in differenti località italiane con differenti discipline dal primo di giugno al 30 di settembre ogni manifestazione contempla diverse discipline giocate sulla spiaggia circoli ic s o comitati provinciali e regionali possono essere gli organizzatori di una o più manifestazioni del circuito nel circuito si possono avere quindi classifiche assolute di circuito per disciplina per sesso per categorie per province e per regioni i vantaggi di questo circuito possono essere due tipi diretti o indiretti diretti perché abbiamo nuovi affiliati a circoli a provinciali e o regionali dato che obbligatorio il tesseramento ic s indiretti sono l'encoming turistico la pubblicità i momenti di aggregazione cultura e l'organizzazione di eventi turistici come funziona il circuito ic s beach sport bbs o centralizzerà i risultati e si offre come vetrina web del circuito www.bic beach sport punto cloud i circoli o comitati interessati a organizzare una tappa del calendario devono contattare bbs o che inserirà nel pannello ic s la manifestazione corrispondente l'evento e darà la possibilità al circolo o il comitato di inserire i nominativi che partecipano all'evento organizzare una manifestazione una volta stabilito la data della manifestazione con l'organizzatore bbs o introdurrà nel sistema ic s l'evento corrispondente e farà la pubblicità dell'evento nella propria web page l'organizzatore da sua parte contatterà i circoli della sua provincia o regione che praticano una delle discipline giocate in spiaggia e fornirà loro l'appoggio per l'organizzazione della disciplina dentro della manifestazione l'organizzatore gestisce le iscrizioni i nuovi tesseramenti e fornisce a bbs o i dati relativi ai risultati delle singole gare della manifestazione circuito italiano ic s beach sport questo progetto ha come obiettivo riuscire a coinvolgere circoli praticanti già discipline vicine ai beach sport i comitati ai cs interessati per creare delle vere e proprie tappe dei beach sport fisse e o stagionali per creare un vero circuito italiano che si svolga tutti gli anni fisse e o stagionali per creare delle Lehrer